Grazie a tutti. 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 tempo, abbiamo due persone intelligenti che rivestono dei ruoli importanti, uno a livello europeo l'altro a livello nazionale, il dialogo e la volontà di trovare insieme delle soluzioni che valorizzino i nostri prodotti supera qualunque divisione o piccola visione di tipo partitico che non ha nessun senso. Il menù è tutto buono quindi non facciamo altro che adesso andare avanti. Quindi tutti a tavola.